Buongiorno a tutti e ben ritrovati a punto di contatto. Oggi parliamo di rieti, della crisi e della continua e devastante deindustrializzazione che ha messo in ginocchio l'intero territorio. Molte aziende hanno chiuso i battenti, sono andate all'estero, altre sono fallite, lasciando a casa moltissimi lavoratori. Ne parliamo oggi con il nostro ospite, ve lo presento, è Giuseppe Ricci, segretario generale della FIM di Rieti. Buongiorno. Buongiorno. Allora, abbiamo detto che c'è stata questa crisi che ha colpito duramente il territorio. Possiamo fare una fotografia di qual è oggi il tessuto industriale di Rieti? Di quel che è rimasto del tessuto industriale, oserei dire. Non a caso anche due anni fa CGL e CISDW a livello nazionale individuarono Rieti per fare la manifestazione del primo maggio per una crisi di deindustrializzazione proprio del territorio e qui essendo un piccolo centro hanno focalizzato, hanno fatto bene a focalizzare l'attenzione del governo sulla realtà di Rieti. Oggi la situazione è drammatica, oserei dire, per essere buono, perché negli ultimi anni si sono venute sempre di più ad accentuare le crisi. Per dare alcuni dati, noi siamo passati da circa un milione di ore di cassa integrazione dell'anno scorso a due milioni di ore per quanto riguarda il 2014. Queste due milioni di ore di cassa integrazione, se noi andiamo a fare un conto, sono circa 1.100 persone a zero ore, quindi che vanno a incidere sui salari, vanno a incidere su un tessuto economico che già è stato colpito dalla crisi negli anni precedenti. Quindi questa è un po' la fotografia sotto il punto di vista degli ammortizzatori sociali. Non ci dimentichiamo che nell'ultimo anno ci sono stati un aumento di iscrizione nelle liste di mobilità. Noi a dicembre abbiamo assistito a un continuo richiesta di mobilità anche perché è cambiata la riforma Fornero e quindi di conseguenza alcune aziende, alcuni lavoratori sono stati collocati in mobilità perché altrimenti quest'anno cambiando l'indennità di mobilità avrebbero perso ulteriori anni di mobilità. Quindi stiamo parlando di circa un migliaio di persone su un tessuto industriale metalmeccanico che occupa intorno ai 4.000 addetti e quindi capiamo benissimo qual è la fotografia. Se parliamo di mille complessivi che lì ci sono anche quelli del settore commercio, del settore chimico, del settore anche edilizio che sono impattati dalla mobilità e dalla cassa integrazione, però stiamo parlando di un numero importantissimo che mette a serio rischio la permanenza dell'industria nel nostro territorio. Però ci sono alcune eccellenze che sono rimaste e quindi speriamo che con gli anni con tutte le azioni che stiamo facendo e che poi toccheremo andremo magari a rilanciare perché per noi l'industria ha rappresentato il volano di sviluppo. Proprio ieri noi abbiamo assistito a un'iniziativa che ripartiva da un'industria che ha permesso la conversione del territorio da agricola industriale. Stiamo parlando dell'ex snia viscosa che ha chiuso e quindi adesso si sta parlando purtroppo dopo 20 anni di come riconvertire quell'area, però noi vorremmo accelerare questi processi di riconversione territoriale sotto il punto di vista industriale, perché se non c'è l'industria non c'è economia, non c'è sviluppo e per questo stiamo facendo queste battaglie almeno a livello territoriale per riconvertire un territorio ma su un'industria diversa da quella che è stata nel passato. Senti, possiamo fare qualche nome di industria che ha chiuso e invece chi è oggi ancora in difficoltà? Ma le industrie che hanno chiuso, per parlare dell'ultimo anno stiamo parlando della Tecnoind, un'azienda che occupava una quarantina di persone, che operava nel settore dello smaltimento dei centrali, diciamo, smaltimento dei rifiuti e quindi era sempre un'azienda metalmeccanica che operava in diversi territori, anche all'estero, che però purtroppo dalla crisi avuta, dalla mancata pagamento, perché lavorando col pubblico ha mancato pagamento e quindi in conseguenza l'azienda è andata in crisi, è andata in default e è chiusa. La stessa Enterprise, un'altra azienda che avevamo scommesso l'anno scorso su una riconversione, abbiamo constatato e qui stiamo parlando di un'altra quarantina di persone, che il padrone si è liquefatto, è sparito dal territorio e di conseguenza i lavoratori hanno perso il posto di lavoro, sono stati licenziati. Stiamo parlando nell'ultimo anno anche della Ritel, è un'azienda che è fallita e che occupava 200 persone e che stanno in mobilità, stiamo parlando della Comeco, ci sono diverse realtà anche piccole che magari non hanno avuto una cassa di risonanza a livello nazionale, però hanno portato alla fine a un migliaio di persone licenziate, quindi sono persone che, queste sono aziende chiuse, non è che stiamo parlando di aziende che ancora stanno in cassa integrazione come dicevo poc'anzi rispetto ai dati. Senti, ma oggi al Ministero dello Sviluppo Economico quali tavoli sono aperti? Beh, noi al Ministero dello Sviluppo Economico abbiamo 5 vertenze che affrontiamo a quel tavolo, abbiamo l'Alcatel, che quindi c'è un centro di ricerca ancora nel nostro territorio che occupa 33 persone, che è stato messo a forte rischio perché nella scelta della multinazionale, che è quella di chiudere i stabilimenti satelliti per concentrarsi in un hub che è quello di Vimercato e mette a rischio nel Lazio Rieti e nella Campania Battipaia e poi ci sono, e quindi c'è un tavolo aperto al Ministero dello Sviluppo Economico e ci aggiorneremo anche nel 17 di questo mese per continuare la discussione, per cercare di salvaguardare quel sito. Come l'altra vertenza che stiamo affrontando al tavolo del Ministero dello Sviluppo Economico c'è quella della Solsonica, un'azienda che opera nel settore fotovoltaico, che ha risentito di una crisi finanziaria, tant'è che ha avviato una procedura di concordato con riserva e proprio in questi giorni stiamo affrontando, anche perché è stata presentata una proposta d'acquisto da parte di un gruppo importante che è Gala, un'azienda quotata in borsa e quindi di conseguenza nei prossimi giorni dovremo affrontare in che modo e a quale condizione i lavoratori verranno riassorbiti in questo piano industriale, quindi sono due aziende almeno importanti, più importanti nel nostro territorio, come ci sono anche altre aziende come la Schneider, la Schneider è un'azienda anche che sono due anni che stiamo lottando per evitare la chiusura e ad oggi abbiamo una proposta, una proposta di riconversione e nei prossimi giorni continueremo il confronto per questa azienda che occupa circa 80 persone, mentre la Solsonica occupava circa 200 persone, quindi sono aziende importanti, come la stessa Ritel, che è un tavolo che noi abbiamo aperto dal 2003, siamo nel 2005, più di 10 anni, sono 12 anni, sono 12 anni che abbiamo fatto delle lotte, abbiamo fatto un protocollo che aveva aperto una stagione nuova sulle esternalizzazioni perché si prevedeva l'ingresso del nalgnuco del cedente, quindi in quel caso era Alcatel, avevamo previsto e per questo chiediamo l'esegibilità di quel protocollo l'ingresso della Femmeccanica che era presente nella compagine azionariata, era previsto il convolgimento e tant'è che è stato firmato anche dall'Agenzia Spazio Italiana, era previsto da parte della regione, c'erano diversi soggetti che avevano presi degli impegni su questa avvertenza e che noi proprio in questi giorni stiamo cercando di rimettere al centro dell'attenzione dello scenario a livello nazionale perché è un tavolo che abbiamo aperto al Ministero che però ad oggi non ha fruttato niente, se non il fatto che 200 persone sono state licenziate, quindi è questa un po' la fotografia rispetto ai tavoli che sono aperti al Ministero dello Sviluppo Economico, i tavoli sono aperti, il problema è che bisogna chiudere questi tavoli ma in modo positivo, noi purtroppo abbiamo avuto questo riscontro rispetto in particolar modo alla ridere, negativo, proprio ieri noi abbiamo incontrato il sottosegretario De Vincenti, si è rimpegnato per l'ennesima volta a riconvocare il tavolo per provare a rimettere al centro una proposta perché di proposte ce ne sono state diverse che però, ripeto, hanno fruttato zero, i lavoratori stanno a casa, non c'è un progetto industriale per una riconversione e questa cosa ci dispiace in particolar modo perché ci ha permesso tra l'altro in tutti questi anni di avere dei benefici che ci abbiamo oggi, ci potremmo avere oggi, ci potremmo perché proprio nei giorni scorsi è stato sottoscritto al Ministero dello Sviluppo Economico un accordo di programma. Ecco, quindi buone novità potrebbero proprio venire da questo accordo, da questo patto di sviluppo. Sì, 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 noi abbiamo fatto, come dicevo prima, dal 2006 nel 2011 era già stato inserito un po' Rieti nell'area di crisi complessa, però oggi c'è la ciccia, nel senso che ci sono le risorse, hanno stanziato 16 milioni di euro da parte 5 più 1 la Regione Lazio e 10 il Ministero dello Sviluppo Economico per una riconversione di quell'area, noi non vorremmo che rimanesse lettera morta, tant'è che facciamo un appello soprattutto alle associazioni datoriali, agli imprenditori, perché oggi c'è una vera opportunità nel nostro territorio, cosa che non c'è stata in questi anni, quindi ci sono, ma un'opportunità rispetto anche alle competenze che ha quel territorio. Senti, ma quali sono gli interventi che possono essere messi in campo subito? Beh, gli interventi che possono essere messi in campo subito è, siccome abbiamo fatto un processo all'incontrario, cioè siamo partiti dall'analisi dei fabbisogni da parte degli imprenditori locali per poi redigere il piano, quindi ci sono richieste di finanziamento per circa 300 milioni di euro, quindi significa che c'è un tessuto industriale che si vuole riconvertire e quindi che è ancora vivo, sarebbe opportuno che nel momento in cui c'è anche Invitalia che fa monitoraggio su queste proposte si concretizzassero, quindi non è che siamo partiti finanziamenti a pioggia così, noi siamo partiti dall'incontrario, un'analisi dei fabbisogni rispetto alle aziende che già sono presenti nel territorio per poter crescere e nello stesso tempo finanziare questi progetti. Quindi i progetti ci sono, adesso vanno finanziati, adesso vanno fatti i bandi in modo tale che per noi resta fondamentale il beneficio che ne devono avere i lavoratori che sono stati impattati dalla crisi, come priorità, non perché siano differenti dagli altri, sappiamo la disoccupazione giovanile e quant'altro, però se oggi abbiamo questa opportunità è grazie soprattutto alla lotta dei lavoratori di concerto con le organizzazioni sindacali e territoriali, che su questa cosa abbiamo, io l'ho definita così, per una volta che abbiamo superato il tappo che potevano essere diciamo le istituzioni locali oppure i rappresentanti locali siamo riusciti ad avere un risultato, adesso ci serve il risultato concreto che è quello delle imprese, perché senza imprese non c'è sviluppo. Allora facciamo l'appello finale, questa è la tua telecamera, prego. L'appello finale mi rivolgo in particolar modo all'istituzione a livello nazionale, al Ministero del Sviluppo Economico, ma anche la stessa Confindustria. Riedi è un territorio che ha dato in questo paese, perché ci sono state delle realtà importanti, la Texas, la Alcatel, la Schneider, la Bax, ci sono realtà importanti, c'è un tessuto di professionalità non indifferente, perché si è acquisito con gli anni, noi l'appello che faccio in particolar modo alle imprese a venire a visitare il nostro territorio, perché anche oggi c'è l'opportunità di avere dei sostegni su progetti concreti e che guardino al futuro. Soltanto una cosa, in particolar modo io faccio un appello, a prescindere dalla situazione che c'è nella Finmeccanica, noi abbiamo una cambiale che la Finmeccanica deve pagare per il nostro territorio, un impegno sottoscritto sul lavoro al Ministero dello Sviluppo Economico, alla presenza del Ministro di allora Di Bersani che va saldato e per questo noi nei prossimi giorni, anche con il coinvolgimento del sottosegretario che abbiamo avuto proprio ieri, speriamo che ci sia una risposta. Benissimo, speriamo allora che il tuo appello sia ascoltato. Speriamo soprattutto per i lavoratori di Riedi che venga ascoltato. Ti ringrazio per essere stato qui con noi. Grazie a voi per l'attenzione. Ringrazio anche voi per averci seguito, vi ricordo il nostro indirizzo mail laborTV.it se volete venire qui in trasmissione e raccontarci la vostra storia, per il momento con Punto di Contatto vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana. Arrivederci. Grazie a tutti.